Buongiorno, benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 25 febbraio, lunedì, questa sera come sempre c'è Quarta Repubblica, assolutamente da non mancare, intanto perché ci sono i risultati elettorali della Sardegna, speriamo che questa sera in diretta alle 21.30 siano resi noti, per ora stiamo alla quarta, quinta sezione scrutinata, mille voti non di più scrutinati dalla Sardegna, quello che contano sono gli exit poll che ieri sera ci ha regalato la RAI, perché su quelli abbiamo fatto tutti quanti i giornali di oggi e commenti che si stanno facendo ora, sperando che siano veri, perché se hanno cannato gli exit poll, obiettivamente stiamo raccontando un film che è completamente sbagliato, vi ricordo che oltre ad esserci i risultati della Sardegna questa sera, ovviamente ci sarà anche una grande intervista come sempre di Quarta Repubblica, questa sera la faremo al Ministro dell'Economia, Tria, prima volta del Ministro non solo a Quarta Repubblica, ma in televisione quest'anno. Bene, sulla Sardegna vi dico subito che sembra che ci sia un testa a testa tra il candidato alla presidenza scelto dal centrodestra e un candidato alla presidenza scelto dalla centrosinistra. Diciamo la verità, il candidato del centrosinistra è stato azzeccato perché non è del centrosinistra ma è della sinistra, figlio di dirigenti comunisti, il signor Zedda è stato considerato un buon sindaco di Cagliari per due mandati ed è espressione della sinistra della sinistra, non è certo la sinistra renziana, è quella parte che potremmo definire l'EU un tempo, quindi per vincere si spostano a sinistra. La destra ha avuto la geniale idea, in questo caso di Salvini, di scegliere e mettere a capo della coalizione un autonomista sardo, tra l'altro con orientamento di sinistra, non si può definire come per esempio il presidente dell'Abruzzo che nasceva dai fratelli d'Italia con orientamento semmai destro, per semplificare le cose. Ebbene, sembra dagli exit poll che i presidenti abbiano questa specie di situazione imbarazzante per cui le loro liste hanno preso molto più voti, quella del presidente del centrodestra, di quanti abbia preso il presidente del centrodestra, mentre Zedda è preso molti più voti delle liste. Quindi in realtà lo scontro tra i presidenti vede Zedda aver fatto un grande lavoro e il candidato invece del centrodestra averlo fatto pessimo. Le liste sotto fanno vedere come la sinistra non funziona e l'alleanza di centrodestra invece funziona perfettamente a Hug, Giorgio, almeno secondo i dati che stanno emergendo secondo gli exit poll. A ciò si aggiunge il terzo incomodo, il Movimento 5 Stelle, un collasso totale, lo dice anche il suo giornale di riferimento, il Fatto Quotidiano che dice che è un disastro il risultato elettorale. È evidente che non si può considerare, dicono alcune, le elezioni politiche con le elezioni amministrative. È evidente che le scorse elezioni regionali il Movimento 5 Stelle non si era candidato, come peraltro neanche la Lega in Sardegna. È evidente inoltre che il primo partito, secondo gli exit poll, addirittura rischia di essere il Movimento 5 Stelle, quindi disastro mica tanto. Ma il punto fondamentale è che questi a marcia hanno preso 9 deputati su 9, 9 seggi su 9 il Movimento 5 Stelle in Sardegna, col 40%, quindi passare dal 40, al 12, 13, 14 o 15%, come gli exit poll danno al Movimento 5 Stelle, fa dire a tutti i commentatori che le cose non sono andate bene, anzi malissimo. Io direi che su questo però dobbiamo veramente fare attenzione. Questa sera spero di avere dati definitivi sui quali fare commenti più seri, ma non perché non siano seri questi, ma perché sono basati su dati ancora virtuali. De Falco, che è diventato il metra pensé dell'opposizione politica del Movimento 5 Stelle, uno che fino all'altro giorno faceva l'unica sua grande exploit, è quella di aver avuto a che fare con Schettino, dicendo di sale a bordo, cazzo, nel frattempo lui stava dietro la sua scrivania, non che stia difendendo Schettino, ma stia dicendo che l'eroismo era semplicemente quello di dare un ordine dietro al calduccio con la tassa di caffè. Beh, insomma, ci spiega De Falco, spiega al Movimento 5 Stelle che lo ha pregato di candidarsi, si è candidato ed è stato eletto, beh, insomma, gli dice che la deriva di destra non serve al Movimento 5 Stelle. Se lo dice De Falco, beh, insomma, la sua deriva la conosciamo tutti. Mieli parla, ma insomma, è abbastanza inutile leggerlo. Interessante signore che dice quello che dicevamo prima sul giornale, che dice che il centrodestra ha sbagliato il suo candidato e sottolinea, comunque signore, un dato che io ancora non ricordavo, cioè che in realtà la vittoria del centrodestra è certificata perché alle politiche avevano preso insieme il 31% e qui prendono il 42%. I giornali di destra quindi dicono alla Lega ritorna con noi perché ti conviene. I giornali di sinistra invece, non solo quelli di sinistra, insomma, alcuni autorevoli commentatori, invece spiegano al Movimento 5 Stelle che la sua deriva dovrebbe rivenire a sinistra e non a destra. Nel frattempo Zingaretti ha avuto un'idea grandiosa e c'è quella di utilizzare il faccione di Pisapia, ex sindaco di Milano, per recuperare. Quello che sta avvenendo è abbastanza chiaro, cioè la sinistra si sta spostando a sinistra e nel Movimento 5 Stelle c'è qualche imbarazzo. Tito, ovviamente, sulla Repubblica oggi dice che questo è il segnale per cui questo governo non durerà. Bah, non lo so, vedremo. Sulla legittima difesa che verrà discussa in Parlamento domani, beh, lì ci sono due o tre cose interessanti da dire. La prima, come è noto al Corriere della Sera, la legittima difesa doveva essere una cosa super leghista, super di cambiamento alla fine, grazie a questa legge annacquata proprio per la presenza in coalizione del Movimento 5 Stelle, in galera, per esempio, l'imprenditore Piacentino che ha sparato l'altro giorno e che si è fatto quattro anni di galera, la cui figlia oggi intervistata al Corriere della Sera ci sarebbe andato comunque, perché quello non è legittima difesa ma è tentato omicidio, cioè non c'è un diritto a sparare se qualcuno entra nella mia proprietà privata, secondo la nuova legge, sostiene Dino Martirano sul Corriere della Sera. E vado oltre, dice questa legge che viene comunque mantenuta la proporzionalità tra l'offesa e la risposta. Detto questo, c'è un dibattito molto divertente su legittima difesa, comunque ne parleremo stasera a Quarta Repubblica tra i magistrati, perché una parte, una componente della magistratura, cioè magistratura indipendente, che è la componente sua di destra, la magistratura ha detto, ma scusatemi, ma perché vi state prendendo voi Associazione Nazionale dei Magistrati, che è il loro sindacato contro le parole di Salvini, che difendeva quello che sta in galera per legittima difesa? Non mi sembrano delle parole eversive, devo dire una porro studia, Giuseppe, Giuseppe Gramazzo. Giuseppe Gramazzo, un cretino c'è tutte le mattine, mi mette di buon umore Giuseppe Gramazzo. Studia, quelli ti dicono, adesso vi dico quali sono le cose che hanno imparato dal fatto quotidiano. Studia, lecchino, pennivendolo, poi che altro dicono questi deficienti cerebrolesi? Cosa altro dicono? Pennivendolo, studia, vabbè, insomma, sono queste le loro servilismo. L'altro giorno mi hanno dato una mail dicendomi, mi sembra che tu eri là, servile, con la linguetta di fuori, con il tuo padrone, che il padrone ogni tanto è Movimento 5 Stelle, ogni tanto, no, Movimento 5 Stelle mai, per carità, la Lega, Salvini, ogni tanto Berlusconi, ogni tanto Renzi, la linguetta e il padrone, dicono quelli che mi scrivono. Poi io gli dico, ma come si permette? Non è che dico altro a questa deficiente che mi scrive, e quella, sapete cosa mi risponde? Ah, io non capisco perché lei si è piccato. Piccato? Mi dici che sono un servo che uso la linguetta? Non è che sono piccato, io te l'hai un cazzotto in faccia così se ti beccassi uno che mi dice che sono un servo. Io sono soltanto servo vostro che mi state ascoltando in questo momento. Ciao Bibiana. San Pellegrino, bellissimo, oggi due pagine intere sulla San Pellegrino, celebrata, è nata nel 1899, cosa si faceva a San Pellegrino, le vecchie foto della San Pellegrino, la bottiglia con la stella rossa, ma toc toc toc, sapete perché la San Pellegrino oggi fattura 900 milioni di euro? Sapete, Giorgio, perché la San Pellegrino oggi la trovate in 150 pesi? Perché se l'è comprata una multinazionale inglese e svizzera, la Nestlé. Vi piaccia o non vi piaccia? Vi piaccia o non vi piaccia? Allora, quando diciamo l'italianità, la non-italianità, le multinazionali che arrivano qua, ma se voi ragionate sul fatto che una grande multinazionale, odiata, di svizzeri, mostruosa, grazie a lei, la San Pellegrino, che poi è acqua, che si prende in una fonte e impiega italiani, viene distribuita in tutto il mondo, qualcuno se lo ricorda che ogni tanto gli stranieri quando vengono qua, come in casi diversi, oltre che alla San Pellegrino, facciano bene, l'altra storia stupende, due storie stupende dagli Stati Uniti, no, ancora prima delle storie degli Stati Uniti, intervista a Di Pietro, che oggi dice delle cose sul giornale, tra l'altro Di Pietro, intervistato al giornale, Di Pietro che ci ha fatto un culo così, querele, preso soldi dal giornale, insomma, cosa dice sul giornale? Che Toninelli sarebbe, è, dice Di Pietro, incapace di intendere e di volere. Io devo dirti la verità, se io dicessi una cosa di questo tipo su questo sito e sul sito nicolaporro.it, forse mi beccherei una querela. Vediamo domani cosa succede a Di Pietro, perché dire del ministro dell'infrastruttura che è incapace di intendere e di volere è una botta, che porca miseria. Le due storie americane sono una di un'americana che viene in Italia e l'altra di un'americana, 19 anni, bella, bionda, figlia di grande, di buona famiglia, che in America pensa di inventarsi un'azienda, lascia 19 anni dopo pochi esami in ingegneria o biochimica, e si inventa un'azienda per cui tu fai con una goccia di sangue, perché lei aveva paura degli aghi, messa su una specie di carta di credito che poi si mette in un computer, ti fa l'analisi del sangue, pensate che è ficata in un minuto, goccia di sangue su questa scheda, la scheda la metti nel computer e il computer ti dà gli esami del sangue in tempo reale. Vi rendete conto che idea fantastica raccoglie subito 7 milioni di euro, copertine di Forbes, copertine di Fortune, prima pagina dice il Times che è tra le 100 donne più influenti del mondo, insomma un giornalista del Wall Street Journal si accorge che questa è tutta una minchiata, non era vero, era falso, non c'era nessuna invenzione e avevano finanziato sul nulla, questa ragazza di 19 anni, bene introdotta, che conosceva tutti, non aveva inventato nulla, non c'era nessuna goccia di sangue e quando gli avevano fatto, aveva addirittura inventato che l'avevano testata sui militari in Afghanistan, io la trovo una cosa fabolosa, e poi dicono no, gli italiani, poi dicono il mercato nostro, la ragazzina 19enne della grande università americana dopo un anno fotte tutti quanti, quasi ci godo di più, Repubblica oggi racconta la storia di questa ragazza dal lato dei giornalisti che resistono e scoprono, tra l'altro questo giornalista è minacciato perché Mardock, che è il proprietario del Wall Street Journal, aveva investito in questa start-up che era una start-up basata su una balla, io la trovo straordinaria, questa storia della signora Teranos. Alcune grandi italiane che vanno negli Stati Uniti e solo per essere andate negli Stati Uniti diventano ovviamente delle eroine, cioè Paola Antonelli, che penso forse anche di aver incrociato da qualche parte, curerà la triennale a Milano. Ma la triennale a Milano, sapete su quale sarà il leitmotiv della triennale di Milano? Ho scelto il tema delle catastrofi naturali. Tiè! Ma come delle catastrofi naturali? Ma come cacchio? Allora, già l'ambientalismo ci ha rotto le balle, ma il catastrofismo è dieci volte peggio. Io segnalo a questa signora, alla signora Paola Antonelli, che è la perfetta new yorkese che ha studiato il MoMA e che verrà a Milano a portarci non la grande America, ma le minchiate, i tic di quell'America new yorkese che, come descritto bene Tom Wolfe, non fa altro che imitare la peggiore Europa sinistrese. Ce la portiamo là, la facciamo crescere in vetro e là, poi ce la riportiamo qua per dirci le minchiate sulle catastrofi naturali, perché tutti voi ovviamente vedete che succedono le catastrofi, vi dite che è un peggioramento. Su questa settimana ho pubblicato una recensione del libro di battaglia, Franco Battaglia, sulla chimica, sul giornale, ma c'è un documento ufficiale fatto dal centro Uragani negli Stati Uniti che ci spiegano qual è la frequenza degli uragani in Stati Uniti e la loro tasso di mortalità e di devastazione e vedete che gli uragani negli Stati Uniti non sono aumentati, non sono diventati più potenti, non sono diventati un disastro grazie al cambiamento climatico, sono tutte balle, balle su balle, cioè il centro Uragani in America è dal 1900 che li vede, certo dice dal 2000 in poi, dal 1980 in poi ci sono i satelliti e quindi sono più facilmente prevedibili e più facilmente testabili, ma li hanno segnati tutti gli uragani, dalla forza 1 alla forza 5, ebbene non sono aumentati, glielo riesce a spiegare la signora Paolo Antonelli? No! Gli riesce a spiegare il New York Times? No! Perché ci sono gli uragani, stiamo distruggendo il mondo, non per questo, ma perché stiamo distruggendo la nostra intelligenza. Questa sera noi ci vediamo a Quarta Repubblica, non parleremo di uragani, parleremo del ciclone che probabilmente è avvenuto in Sardegna, chi non si collega merita di andare tutta la sua vita a vedersi le catastrofi naturali alla triennale, come se fosse, vi ricordate, vabbè, insomma, quelli che gli aprivano l'occhio, come si chiamava quel film? Arancia Meccanica, ciao!